E' una prova che mette sotto sforzo anche mentale sia Blind che Nick, perché l'acqua è salata, devono tenere gli occhi chiusi. Nick in questo istante sta già al limite, il naso si sta coprendo d'acqua, non se lo possono tappare con le mani. Anche Blind in questo momento, lanciate l'acqua piano dentro i secchi, grazie ragazzi, perché se no compromettete la prova. In questo istante posso dirvi che Nick è in apnea, è totalmente in apnea, spunta solo il mento e un pezzo di naso. Blind è uscito, stop alla prova. Nick, avvisatelo perché... Nick, via, via, eccolo qua. Sarebbe stato altri dieci minuti, però in quanto sei tu il vincitore della prova d'apnea. Bravo Nick, dammi un dieci. Yes! Bravo, bravo, vieni, vieni, vieni. Quindi la squadra della Cuccaraccia. Bravo Nick, hai reso tutta la tua tribù immune. Eh... E questo è tutto l'altra cosa. E questo è tutto l'intuota. E questo è tutto l'intuota. Eh...